Eccoci qua, siamo con Riccardo. Riccardo, prima volta che ci vediamo, quindi proprio a scatola chiusa. Tu hai fatto coaching bronzo con Manu, se non erro. Ok, quanto tempo fa? Un mese fa circa, poco meno. Ok, ok. È un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ne abbiamo discusso chiaramente prima. Mi piace molto, so che anche tu sei abbastanza sensibile. Come non aver paura di perdere una ragazza che ci piace? Perché secondo me gira tutto attorno a questo concetto, riuscire a lavorare, quindi a conoscere la ragazza con una mentalità tranquilla e corretta. Quali sono secondo te i punti cardine per un ragazzo medio che si interfaccia a una ragazza molto bella, che lo attira, per non aver paura di perderla e quindi combinare minchiate su minchiate? Ok. Una cosa che insomma all'inizio Manu, il mio trainer, mi ha molto abbattuto è il fatto della mentalità e mi ha spaccato a mio avviso delle convinzioni molto vecchie che mi sagavano effettivamente la testa, che però dopo a un certo punto mi si rosa conto che non avevano senso ormai nel 2020 continuare perché erano concezioni abbastanza antiquate. Cioè? Il fatto è il fatto di desensibilizzarsi, a mio avviso. Ah, no, ok, ci sta. No, no, non è brutto, cioè forse all'inizio può essere brutto, dopo incominci, come posso dire, cioè entra in te stesso, diventa una cosa tutt'uno. Con Manu... Cioè desensibilizzarsi, corregimi se sbaglio, quello che intendi, desensibilizzarsi, cioè conoscere una ragazza mantenendo i piedi ben saldi a terra, sapendo che magari lunedì li state sentendo, martedì può succedere qualcosa a te, a lei e questa qua non si fa più sentire. Cioè, perfetto. Oppure il fatto che mi è successo proprio, penso, l'altra sera, ho sentito una persona per un mese e poi di colpa è sparita. Non so cosa succedere, cioè una volta ne avrei fatto una tragedia. Adesso, essendomi praticamente creato anche altre situazioni, questa cosa mi è andata nel dimenticatoio. Dopo una settimana questa persona è riapparsa e me ne sono totalmente sbattuto. Cioè... Ok. Io ad esempio ho preso dei lati di Manu, insomma, abbastanza. Ti dico, a me piace litigare, perché mi rendo conto che dà un po' di pepe nella conversazione. Nella stizza, dopo, ad esempio, anche io ho i miei problemi, i miei schizzi, ho incominciato a bloccare, a non seguire più delle persone, delle ragazze su Instagram, anche se le stavo sentendo. Può sembrare brutto, puoi poi passare anche dal maleducato. Bloccato perché? Più che bloccato non seguite più. Perché? Non seguite più. Perché a un certo punto, insomma, io mi rendo conto... Ti erano scadute? Mi sono scadute, io mi rendo conto che è giusto che all'inizio, dato che siamo buoni, per quanto sia giusto e sbagliato questo concetto, facciamo noi il primo passo. Assolutamente. Però, dopo, insomma, ad un certo punto che ci hai dato, è giusto che ci sia un equilibrio nella cosa. Per forza. Quindi, se vedo che a un certo punto, io ti ho dato, non dico 100, ma ti ho dato 50 nel giusto equilibrio della cosa, è giusto che anche dalla porta opposta inizi anche tu. Un'arma molto forte è stata, a mio avviso, il fatto di incominciare a sentire le persone anche per telefono, telefonarle. Però penso sia tutto dovuto al fatto della quarantena. Ok, spetta, spetta. Vai, vai. Aspetta, facciamo così, mettiamo tre regole che hai imparato e a cui sei arrivato anche in autonomia su come non aver paura di perdere una ragazza. Vai, ok. Quindi al punto uno abbiamo già mai detto di sensibilizzazione. Sicuramente, fregarsene. Rimanere un po' con i piedi per terra, sapendo che le cose inizie e finiscono, poi alla fine. Sì, infatti. Ok, al due? Al due, stare sempre sul filo del rasoio. Io ho notato, ho notato che se ti si comporta insomma con un ragazzo con abbastanza meno freghismo, nel senso buono della parola, non la bruci mai. Tanta gente dirà, ma io ho paura insomma di comportarmi in maniera troppo forte, troppo da uomo, quindi di bruciarla per conseguenza, conseguenza andare a dirgli qualcosa insomma che è fuori dalla massa forte. Invece non è vero. Se tu ti comporti in una certa maniera, tanti penseranno male bruci, non è vero. Cioè, sempre sei sul filo del rasoio, però in maniera, come posso dire, educata. Sì, sì, guarda, ti dico... Non è semplice da spiegare. No, 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 io ho capito perfettamente, hai dato il titolo che io non ho mai utilizzato sul filo del rasoio, è figo. Sì, sì, dire quello che si pensa alla fine, nel bene o nel male, diciamo, avere meno filtri di quelli che poi ha la massa, la massa che poi non dice le cose come stanno e veramente lì poi perdi la persona, perché avverte che c'è qualcosa che non va, c'è un'insicurezza di base. Sì, non è a mio avviso arroganza, è semplicemente dire le cose come stanno. Stop. Assolutamente, assolutamente. Però questa è una cosa che Manu ci ha messo quasi un mese a inficarmi in testa, devo essere sincero. Perché che difficoltà hai avuto all'inizio nel riuscire a recepirla per bene, assimilarla? Eh, quando ho visto che Manu incominciava a cazziarle, io ho detto, ma Manu, no, ma scuola, stai esagerando, che le perdiamo, questo, quello. E dopo invece ho visto che invece era totalmente il contrario, a mio avviso. Ah sì. Ma lui le punzecchiava perché loro facevano un qualcosa di... Loro facevano le classiche, insomma, reginette monosillabiche. Ok. Però vedevo proprio, che ti giuro, che nei primi sette, otto messaggi si mettevano subito in chiaro le cose e sembra che la persona incominciava comunque ancora a sparire, a rispondere tardi e la cazziavi all'infinito, finché non cambiava. Ok, figo. Dopo il paleggio è che... Vai. E dopo c'è l'ultima, a mio avviso, che è quella più importante, che è l'abbondanza. Cioè l'abbondanza ti porta che se perdi una persona domani, dopo domani ne hai un'altra. Ti dimentichi di quella persona che avevi dietro le spalle, che dopo può tornare, perché dopo non puoi mai sapere effettivamente come può andare il rapporto con una persona. e anche questo periodo abbastanza particolare di quarantena. Ma anche visto nel dopo, mi sono reso conto che se hai problemi con una persona o sei anche rimasto male per un ex ed esci con un'altra e con un'altra ancora, ti si crea quasi un flusso proprio di sensibilizzazione. Quindi l'abbondanza porta al fatto di... Sì, sì, vai. Porta al fatto, insomma, di... Come posso dire? Di mettersi in un mood mentale di meno e freghissimo, però sano per te stesso. E poi quello che fanno le ragazze, alla fine. Infatti. Cioè loro passano, voltano pagina molto rapidamente proprio perché sanno che tra un'ora ce ne sarà un altro, addirittura migliore di quello rispetto a quello di prima. Perfetto. Adesso ti metto in difficoltà però. Vai. Facciamo finta che un ragazzo recepisce questo concetto, ok, di sensibilizzazione, ma ha di fronte una ragazza che gli piace in maniera proprio irrazionale e non riesce a crearsi altre conoscenze, altre situazioni. Ok. Come può fare? Come può fare a, diciamo, trattarla al suo pari e non unicizzarla, secondo te? Allora, una cosa che io ho anche di recente, che comunque io sono nell'idea che una coaching non basta. Bisogna andare molto oltre quel tempo per vedere anche altri argomenti. Però per stringere, se c'è una persona che ti piace tanto dovresti incominciare a trattarla come lei tratta a te a un certo punto. Ovvio che all'inizio devi aprirti, comunque a mio avviso farla parlare e tutto il resto e vedere, insomma, che non sei come la massa. Però a un certo punto io ho notato che c'è una persona che ha mesi e che ha problemi e comunque hanno cominciato a trattarla come lei tratta a me e incomincia a crearsi un equilibrio, anche a livello di tempistiche, di messaggi, di argomenti, queste cose qui. Non è male, non è male. Io faccio una cosa che poi ho consigliato anche probabilmente in un video, è quando mi piace tanto concentrarmi soprattutto sui difetti. Non so se anche tu la fai. Eh, lì la cazzo, lì la faccio notare ogni tanto. No, 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 mentalmente, senza dirglielo, io mi concentro sui suoi difetti, anche estetici che ha, che hanno tutti, per renderla più umana ai miei occhi e non farla avere quella loro unicità. Sicuramente. Io mi sono reso conto che a un certo punto sono tutte umane. Cioè, sono comunque anche loro persone e quindi non sono supereroi. Quindi sì, bisogna a un certo punto trattarli in maniera più vera. Assolutamente. Ma tu, quanto riguarda una curiosità, hai iniziato una coaching per una ragazza in particolare o perché volevi, cioè, volevi migliorare? No, allora, a me è sempre piaciuto l'ambito psicologico, sociale, di massa, perché anche io insegno tutt'altro nella vita, però mi rendo conto che sono cose che servono. Mi sono appassionato, per sbaglio, non so il motivo della vostra pagina e a un certo punto, già comunque dei vostri consigli, ho cambiato giornalmente, ho cambiato totalmente da giorno alla notte, a mio avviso. Più che altro cercavo di capire il messaggio che davate dietro, non il fatto del classico messaggino a copia e incolla. Perché anche io confermo che il copia e incolla non funziona, anzi fa peggio. Cioè, fa veramente peggio, a mio avviso. E quindi, avendovi visto, mi sono reso conto che bisogna formarsi a 360 gradi andando avanti. Ero un po' scettico, inizialmente, ma penso per la mentalità media che c'è nella società di adesso, nei quali questi argomenti. E dopo, insomma, mi sono buttato con mano e ammetto che è stata una cosa che mi ha pericchio cambiato. Sono quasi più sereno di prima, non so come sfiarmi mentalmente parlando. Se una persona se ne va, se ne va, ne arriverà un'altra. Siamo in 7 miliardi, quindi va bene così. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio, so che sei molto impegnato, quindi ti libero. Grazie mille e spero di vederti, insomma, un corso più avanti quando finirà tutto, ecco. Va bene, grazie. Grazie mille, Raki, Ricky. Ciao, ciao, bello. Ciao, ciao.